Io sono molto colpita dall'atteggiamento opportunista che Macron ha inteso rappresentare nel suo viaggio in Cina. Quella passerella sulla piazza Tiananmen intanto ricorda tanti orrori e tanto sangue versato dal popolo cinese contro la dittatura comunista. Fosse solo per questo avrebbe dovuto calibrare meglio anche le parole utilizzate per non far sembrare come invece è sembrato semplicemente un accordo d'affari. L'Unione Europea non può essere trascinata in questo, l'Unione Europea non è equidistante da Cina e Stati Uniti, l'Unione Europea è l'Occidente, è con gli Stati Uniti.